Musica Buona domenica, ben trovati al consueto riepilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo dal lunedì 30 novembre. La Sicilia passa da zona arancione a zona gialla, diminuiscono le restrizioni, ma l'infettivologo palermitano Antonio Cascio invita a mantenere ancora alta l'attenzione. La Sicilia è entrata in zona gialla, questa è una bellissima notizia, però dobbiamo stare molto attenti, non è molto diversa la zona gialla da quella arancione e quindi le persone non devono pensare che il pericolo è finito ed è un liberi tutti. Al contrario, dobbiamo cercare di riuscire a mantenere questa zona gialla o addirittura a passare in una zona verde. Insomma, quindi ogni giorno continuano a esserci tanti nuovi casi, questi sono in riduzione, ma questo non significa che i casi sono scomparsi. Le persone che si ricoverano in ospedale col covid continuano a esserci, anche se fortunatamente sono di meno. Le persone in terapia intensiva continuano a esserci, ma soprattutto, ancora peggio, le persone continuano a morire con il covid o per il covid. Persone che non sarebbero morte altrimenti muoiono ogni giorno con o per il covid e ne muoiono circa per adesso una quarantina al giorno. E questo numero, purtroppo, continuerà a mantenersi tale, speriamo per poco, ma io temo insomma per ancora una settimana, vedremo questi numeri. Allora, le cose sono sicuramente molto migliori rispetto a quanto non lo fossero 20 giorni fa, quando sono cominciate le restrizioni più serrate. E quindi ora noi stiamo fortunatamente osservando una riduzione dei casi grazie alle restrizioni che abbiamo intrapreso. Ma se non continuiamo a stare tutti molto attenti, le curve ricominceranno a risalire. E dopo che le curve cominciano a risalire, vedremo risalire, appunto, tutte le curve risaliranno, anche quelle, purtroppo, delle persone in terapia intensiva e anche quelle dei morti. E allora, dobbiamo tutti continuare a stare molto, molto attenti, continuare a indossare la mascherina, soprattutto se ci troviamo insieme ad altre persone, ma indossarla anche bene, correttamente, coprendo il naso. Ricordiamoci di lavarci spesso le mani e quando possiamo cerchiamo di mantenere sempre le distanze interpersonali. Poco cambia fra zona gialla e zona arancione. Io non vedo grandi pericoli nel frequentare un ristorante, se siamo seduti e serviti al tavolo e se non siamo troppi al tavolo, appunto, i posti sono distanziati fra loro. E' chiaro, evitiamo di andare al ristorante con sconosciuti. Ora si avvicinano le festività natalizie, è bello, ovviamente, incontrarsi con i propri cari, con i propri familiari, che magari non si vedono da tanto tempo, ma l'attenzione deve essere alta, perché magari avremo persone, insomma, ci saranno ricongiungimenti familiari proprio nel periodo natalizio e allora l'attenzione deve essere veramente alta. Quindi, ove possibile, cerchiamo anche nell'ambito familiare di evitare baci e abbracci. Io, ripeto, tante volte l'ho detto a una mamma anziana che, nonostante io lavori con i pazienti Covid, la vado a trovare settimanalmente e la vedo a distanza di due metri, due metri in mezzo, indossando la mascherina. E allora, continuiamo a stare tutti, tutti molto attenti. Questo è il messaggio più importante che dobbiamo dare. Si fa la conta dei danni in Sicilia dopo il maltempo che ha colpito Catania, Palermo e il Ragusano. Più gravi danni nella periferia del capoluogo Etneo a causa di una tromba d'aria. Sui luoghi colpiti si è recato il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, che ha annunciato la proclamazione dello Stato di calamità. Dobbiamo intatto procedere alla verifica e alla ricognizione dei danni. Sono danni a civili abitazioni, danni ad aziende e danni a infrastrutture. Questo è un compito che svolgerà la protezione civile regionale in collaborazione con quella del comune di Catania e con i vicini del fuoco. Subito dopo procederemo ad una verifica degli interventi immediati da eseguire, soprattutto nelle abitazioni, per evitare disagi ai cittadini. Una stima dei danni molto approssimativa, almeno nella fase iniziale. Intanto la giunta di governo adotta la delibera per richiedere lo stato di emergenza dopo aver dichiarato lo stato di calamità. Stiamo verificando anche a Palermo e a Ragusa l'entità dei danni causati dal maltempo. a Catania accentuati i danni dalla tromba d'aria, come sapete, che si è accompagnata ad una abbondante quantità d'acqua e a venti, a volte con raffiche particolarmente forti. Quindi è un momento difficile. Dobbiamo conviverci con questo cambiamento climatico. Ed è per questo che mai come in questo momento la protezione civile ovunque in Sicilia, a livello regionale, provinciale e comunale, diventa il primo obiettivo al quale deve guardare l'amministrazione pubblica per rafforzare le strutture in termini di risorse umane e in termini di mezzi e di risorse strumentali. Martedì 1 dicembre, Maxi sequestro e la dia di Palermo del patrimonio del costruttore Francesco Zumbo, protagonista con Vito Ciancimino del Sacco di Palermo. Bloccate 11 aziende e conti per 150 milioni di euro. Sono finite sotto sequestro e confisca 11 aziende, centinaia di conti correnti e di mobili costituiti da numerosi appartamenti, ville, terreni e aziende agricole situati a Palermo e provincia, nonché cinque complessi residenziali nella provincia di Siena, su cui la dia di Palermo in collaborazione con quella di Firenze ha posto i sigilli. Zumbo, noto imprenditore edile locale, è considerato a disposizione di Cosa Nostra fin dai tempi di Riina e Provenzano per il riciclaggio di denaro nel settore edilizio. Come ricostruito dalla dia a partire dalla fine degli anni 60, con il consuocero Vincenzo Piazza, ritenuto consigliere della famiglia mafiosa di Palermo Uditore, e con il defunto socio e suo fedele braccio destro, Francesco Civello, fu tra i principali responsabili del sacco di Palermo, ordito dal noto esponente politico mafioso Vito Ciancimino, realizzando un impero edile di circa 2.700 immobili. L'imprenditore, nonostante fosse vicino alle famiglie mafiose della noce, prima e a quella dell'uditore poi, ricoprì, sottolinea la dia, un ruolo trasversale rispetto alle vicende della guerra di mafia, che portarono vari boss ad alternarsi per conquistare un controllo egemone sulla città e la provincia. Lo dimostra il fatto che fu prestanome e custode dei proventi del narcotraffico, oggetto dell'indagine Pizza Connection, riconducibili ai boss Gaetano Badalamenti e ai Gambino, a Leonardo Greco e Michelangelo Aiello, nonché a quelli di altra provenienza illecita di Fulvio Lima, nipote di Salvo. La protezione che Zumo poteva vantare in cambio di tangenti e appartamenti, a suo tempo attirò le attenzioni investigative dell'allora giudice istruttore Giovanni Falcone, poi riscontrate dalle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, fra i quali spicca la testimonianza di Massimo Ciancimino. Anni di indagine della Dia Palermitana, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e della Procura Generale, hanno portato all'arresto e alla condanna di Zumo, con l'iniziale sequestro di un patrimonio a suo tempo stimato in 300 miliardi di lire. Dopo un lungo e complesso iter processuale, un annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi dal Procuratore Generale di Palermo, sul dissequestro e la restituzione del patrimonio nel 2016, la Corte d'Appello di Palermo ha definito la vicenda, sancendo definitivamente come il patrimonio accumulato fosse il risultato dell'esercizio di una vera e propria impresa mafiosa. Pedopornografia online, arrestata una coppia di conviventi di Termini Imerese in provincia di Palermo. Sono pesanti le accuse che vanno dalla violenza sessuale all'adescamento di minori, oltre alla divulgazione e detenzione di immagini video di pornografia minorile. Arrestata una coppia di Termini Imerese in provincia di Palermo, responsabili in concorso secondo l'accusa di violenza sessuale all'adescamento di minori, nonché divulgazione e detenzione di immagini video e di pornografia minorile. La complessa attività di indagine condotta dalla Polizia Postale di Palermo e Catania è partita da un'investigazione avviata dalla Polizia Postale di Torino per divulgazione online di immagini di pornografia minorile, che lo scorso 27 agosto aveva portato ad una perquisizione nei confronti di un individuo nella cui disponibilità sono stati rinvenuti diversi dispositivi informatici. L'impiego di innovativi e sofisticati programmi in ricerca di prove informatiche relativa allo scambio di materiale pedopornografico, nella circostanza appositamente utilizzati dalla Polizia Postale di Palermo, ha consentito di trarre in arresto a Termini Imerese una prima volta uno dei due individui per detenzione di più di 100.000 file di immagini e video a contenuto pedopornografico. Lo sviluppo delle successive attività investigative, con approfondita analisi del contenuto dei dispositivi informatici sequestrati, ha fatto emergere ulteriori condotte criminose della coppia, inerenti anche ad adescamenti online compiuti dall'indagato con la complicità della donna convivente. In particolare alcuni minori residenti a Catania sono stati adescati mediante falsi profili social di minori con lusinghe e artifici finalizzati a scopi sessuali. In un'occasione due ragazze catanesi di 13 anni, dopo essere state adescate tramite due falsi profili di ragazzi coetane, nonché di un terzo profilo falso, creato con il nome di una blogger molto nota tra i teenager, instauravano una relazione a distanza e sono state indotte a compiere e assistere ad atti sessuali. Le adolescenti, opportunamente ascoltate dalla Polizia Postale di Catania, su delega del Pubblico Ministero e con l'ausilio di una psicologa, dopo iniziali e comprensibili reticenze dovute alla vergogna, hanno raccontato quanto accaduto. Dalle indagini emersi al Tresila, adescamento di un terzo minore, un ragazzo di 14 anni, anche ieri di Catania. Gli arrestati, in esecuzione a provvedimento cautelare richiesto dai pubblici ministeri e il Dipartimento Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Palermo, sono un uomo di 42 anni e la sua convivente di 46 residenti a Termini Merese, che sono stati condotti presso le case circondariali di Palermo e Termini Merese. Mercoledì 2 dicembre, verso il nuovo DPCM, a Natale, Capodanno, città blindate, stop agli spostamenti tra comuni, il ministro Speranza, al Senato, vaccino gratuito per tutti da gennaio, acquisto centralizzato. Stasera il Consiglio dei Ministri dovrebbe partorire le nuove misure che entreranno in vigore venerdì prossimo e le regole per le feste di Natale. Resta la linea del rigore, col divieto di uscire dal proprio comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo e al ristorante, no ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori in regione. Niente sci, niente crociere. Oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, in aula al Senato, nel corso delle comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid, ha detto che le scelte adottate al Governo sono difficili quanto necessarie, ma le misure stanno funzionando. Le ordinanze, aggiunto, sono scelte ispirate dal principio di precauzione che hanno aiutato a ridurre il contagio e il numero dei nuovi casi. Il Governo si è assunto alla responsabilità di scelte difficili ma necessarie. Senza di esse, la pressione sugli ospedali diverrebbe insostenibili. Dall'analisi dei dati, nel loro quadro evolutivo, emerge che le misure adottate iniziano a dare primi incoraggianti risultati e tutto lascia prevedere che il prossimo monitoraggio dovrebbe confermare il caro DRT. Sono fiducioso che a breve l'indice possa scendere sotto 1. Se abbassiamo la guardia, la terza ondata è dietro l'angolo. L'obiettivo del Governo è piegare la curva senza un lockdown generalizzato. L'esperienza di queste settimane ci dice che la scelta di un modello su gradi di rischio appare essere in grado di appiettire la curva del contagio senza un lockdown. La situazione però è seria e non può essere sottovalutata. Sul vaccino, Speranza ha detto che l'acquisto è centralizzato e sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. È probabile che saranno necessarie due dosi per ogni vaccinazione. L'Italia ha opzioni per 202 milioni di dosi. Le prime potranno cominciare a essere disponibili da gennaio. Cuore della campagna vaccinale, secondo le previsioni, sarà la prossima primavera e l'estate. Caporalato a Caltanissetta, sgominata a banda, arrestate 11 persone, sfruttavano loro connazionali in tutta la provincia, avrebbero anche ucciso un lavoratore che si era ribellato. Blitz anticaporalato di polizia e carabinieri che a Caltanissetta hanno arrestato 11 persone, 10 sono finite in carcere, una ai domiciliari, una dodicesima ancora ricercata su richiesta della locale procura per associazione a delinquere finalizzata al reclutamento e sfruttamento della mano d'opera allo scopo di destinarla al lavoro, alle estorsioni, al sequestro di persona, alle rapine, lesioni aggravate e minacce. Il gruppo, composto da Pakistani, agendo con metodo paramafioso, aveva soggettato la comunità di appartenenza molto ampia a Caltanissetta, sottoponendola a un regime di vessazione e terrore e sfruttandola professionalmente. In numerosi episodi di violenza riconducibili agli arrestati ha permesso di accertare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, finalizzata ad imporre la propria egemonia sul territorio, acquisita dal protratto periodo di operatività e rafforzata dal costante ricorso a condotte minatorie e violente di elevatissimo allarme sociale. Il gruppo, molto coeso e capeggiato da un indiscusso leader, avrebbe condizionato il settore agricolo dell'entroterra, reclutando mano d'opera pakistana col metodo del caporalato. Proprio questi caporali pakistani destinavano i loro connazionali al lavoro presso titolari d'azienda agricole in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, accordandosi sull'entità del compenso che si aggirava sui 25-30 euro al giorno direttamente con i datori di lavoro e trattenendo per sé una parte o perfino la totalità del corrispettivo già palesemente basso. Ogni timida protesta avanzata dei lavoratori per ottenere un giusto compenso, inoltre, raccontano gli inquirenti, veniva repressa con efferate spedizioni punitive. Ed è proprio in questo contesto criminoso che è maturato l'omicidio del pakistano Adnan Siddique, avvenuto la sera del 3 giugno scorso, che si era ribellato denunciando i suoi caporali. Le indagini condotte dai poliziotti alla squadra mobile Nissena e dai militari dell'arma dei carabinieri hanno fatto luce su molti altri episodi di inaudita violenza posti in essere dal gruppo criminale. Giovedì 3 dicembre, Covid, il Consiglio dei Ministri approva il decreto Natale e Capodanno blindati dentro i confini comunali e dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco degli spostamenti tra le regioni e di vieto di raggiungere le seconde case. In classe si torna il 7 gennaio. Pronto il decreto che vieta gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie che sarà in vigore da domani e confermato il sistema in tre fasce con coprifuoco in tutta Italia alle 22 e ristoranti chiusi in zona gialla alle 18. Nei 20 giorni, tra Natale e l'Epifania, i blocchi cresceranno e le misure si faranno ovunque più rigide. Nel testo è specificato che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato nell'ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre e del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Viene anche stabilito che è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 anche ubicate in altro comune. Chi vive nelle regioni in fascia gialla potrà muoversi liberamente da domani al 20 dicembre superando i confini regionali e andando in altre regioni in fascia gialla e dunque sarà libero di viaggiare in occasione del ponte dell'Immacolata. La conferma arriva ma ancora sono in corso le trattative politiche per la stesura del DPCM in vigore da domani per le prossime due settimane non ci saranno restrizioni sugli spostamenti. Nuove limitazioni anche per le zone gialle scatteranno invece a ridosso delle festività e quindi nel periodo del 21 dicembre al 6 gennaio. Sul tema scuole il governo sceglie dopo un lungo e teso confronto di riportare tutti gli alunni delle superiori in classe solo il 7 gennaio. Lucia Zolina e il Movimento 5 Stelle confermano la preferenza per il ritorno in classe a dicembre ma su questo punto dovrebbe essere accolta la richiesta delle regioni di aspettare il nuovo anno organizzando intanto il sistema dei trasporti. Bancarotta fraudolenta, la Guardia di Finanza ha sequestrato tre ristoranti a Catania arrestato l'amministratore. Con l'accusa di Bancarotta fraudolenta, la Guardia di Finanza di Catania ha arrestato Razio Tosto, gestore di tre ristoranti in centro città dal valore di circa 500.000 euro che sono stati sequestrati al pari delle quote sociali della Etnadoc SRL. L'ordinanza di misure cautelari è stata emessa dal GIP Etneo su richiesta della Procura. Tosto è stato posto ai domiciliari. Le indagini hanno ricostruito le condotte del management della Wine Market SRL società con sede a Catania attiva nel settore della ristorazione mediante la gestione di tre noti ristoranti il Cantiniere, il Nerello e Pane Caldo. Secondo le Fiamme Gialle, Tosto in veste di amministratore ha nel tempo svuotato l'intero complesso aziendale comprensivo della gestione dei tre ristoranti del Wine Market SRL dichiarata fallita a gennaio del 2019 a favore di un'altra società Etnadoc SRL avente la stessa sede legale, luogo di esercizio e la società fallita e formalmente amministrata da prestanome dello stesso Toto. L'imprenditore avrebbe anche determinato e aggravato il distesto della Wine Market continuando a operare non estante lo stato di crisi e perciò maturando debiti nei confronti dell'erario e degli altri creditori per oltre 600.000 euro sottratto a parte le scritture contabili della Wine Market in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e tenendo la contabilità in modo non conforme alla legge, rendendola conseguentemente inattendibile. Tosto avrebbe inoltre tentato di sottrarre parte dei beni della Wine Market alla procedura fallimentare avendo organizzato e pubblicizzato una vendita di vini e liquori scontati fino alla 50%. Venerdì 4 dicembre assenteismo al comune di Palermo 18 ordinanze cautelari ai lavoratori dei servizi cimiteriali 55 indagati. Falsa attestazione di presenza in servizio e truffa i danni dell'amministrazione comunale I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e l'unità operativa di polizia giudiziaria del locale comando di polizia municipale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di 18 dipendenti comunali. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica si è sviluppata dopo alcune segnalazioni anonime a seguito delle quali venivano avviati due differenti filoni di indagine condotti alle due forze di polizia che facevano emergere un pervasivo fenomeno di assenteismo dal lavoro di molti dipendenti dell'ufficio comunale competente per gli impianti cimiteriali i quali attestavano falsamente gli orari di svolgimento delle proprie mansioni traendo in inganno l'amministrazione in violazione dei doveri di fedeltà e diligenza dei pubblici dipendenti. In particolare l'attività di indagine svolta ai carabinieri si è concentrata sulle assenze dei dipendenti sia comunali che delle società partecipate Reset e Coime che prestano servizio all'interno degli uffici e servizi cimiteriali di Via Lincoln. I carabinieri hanno accertato che un elevato numero di impiegati comunali effettuava sia timbrature anche multiple per conto di altri colleghi al fine di attestarne falsamente le loro presenze in servizio sia all'antonamenti autonomi non giustificati. Nel corso di cinque mesi di indagine i carabinieri hanno documentato quasi 2.000 timbrature sospette di cui 240 sviluppate e contestate. L'attività investigativa della Polizia Municipale si è concentrata invece su un'aliquota di dipendenti comunali addetti ai servizi di assistenza ai funerali e pertanto impiegata prevalentemente in mansioni esterne. Anche tale attività di indagine ha evidenziato un diffuso e pervasivo fenomeno di assenteismo ingiustificato tra gli impiegati comunali che spesso, piuttosto che espletare i loro compiti di assistenza si intrattenevano in giro per la città a svolgere attività personali o rientravano in un ufficio in anticipo rispetto all'orario previsto senza darne attestazione. Nel complesso l'indagine ha consentito di ricostruire condotte penalmente rilevanti su 55 impiegati, ovvero più di un terzo dei circa 150 dipendenti che prestano servizio presso l'ufficio dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo. Il sindaco Leoluc Orlando e il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore Sergio Marino hanno espresso grande apprezzamento per l'attività di indagine della Polizia Municipale dei Carabinieri e hanno annunciato oltre alla ovvia costituzione di parte civile se avere misure disciplinari. Sabato 5 dicembre, Covid, l'Italia si tinge di giallo, diminuiscono le restrizioni per molte regioni, rischio esodo di massa dal nord Italia per le feste natalizie, Musumeci studia misure per contenere gli spostamenti. Il nuovo DPCM vede l'Italia tingersi di giallo. Otto regioni hanno cambiato colore da rossa ad arancione ed arancione a giallo, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Serve ancora qualche altro sacrificio, ribadisce il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alla richiesta di rivedere le scelte sul divieto di spostamento tra i comuni in posto a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il timore è una fuga dal nord nell'ultimo fine settimana, prima del 25 dicembre, come già avvenuto a marzo, a poche ore dal lockdown. Nelle nuove regioni arancioni da domani sarà possibile riaprire i negozi, ma dovranno rimanere in quella fascia per due settimane. Il 18 dicembre, se i dati confermeranno il trend, entreranno anche loro nella zona con le minori restrizioni. Preoccupazione condivisa da buona parte dei presidenti di regione che tornano in pressing sul governo affinché modifichi i divieti imposti per le feste. Resta alto il rischio esodo di massa dal nord, il timore che sembrerebbe trovare conferma in un dato. All'Italia ha visto infatti schizzare le prenotazioni con un incremento del 50% tra il 17 e il 20 dicembre. Il rischio di un nuovo esodo verso il sud è un fatto reale che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria che vorremmo condividere anche con il Ministero della Salute. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. C'è un sostanziale miglioramento in Sicilia, prosegue il presidente, e si inizia finalmente a vedere una progressiva regressione della pressione sulle strutture ospedaliere. Non possiamo rischiare di far correre di nuovo il virus per comportamenti individuali che appaiono improntati a superficialità. Lo dobbiamo alle tante vittime che abbiamo avuto e alla straordinaria passione con cui migliaia di operatori hanno adempiuto con professionalità alla loro missione di vita. Il piano per Natale prevede controlli intensi, anche se viene ribadito non ci sarà la stessa rigidità applicata durante il lockdown. L'attenzione in particolare si concentrerà sul rispetto del coprifuoco, sui divieti di spostamento, con verifica a campione e poi più serrate nei giorni di festa e nei weekend e sul monitoraggio anche con droni di strada e piazza dello shopping per evitare assembramenti. È pronto il calendario Ediga 2021, una vera e propria chicca che vede protagonisti gatti del rifugio di Palermo, un modo per sostenere e supportare gli ospiti del Gattile fondato da Paula Narzisi e oggi diretto dal fotoreporter Franco Lannino. Anche quest'anno abbiamo fatto per la sesta edizione il nostro calendario, ormai è diventato una specie di must questo calendario, tutti lo cercano tutti lo vogliono e quest'anno abbiamo superato noi stessi perché ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fotografato i nostri amici orfani e anche abbiamo allargato la platea a qualche gatto che abbiamo ospitato nel nostro cattotello a cui abbiamo fatto anche sitteraggio a domicilio. Allora, subito diciamo dove trovare il calendario? Allora, il calendario lo trovate in tantissimi punti vendita, non posso elencarveli qui perché sono una ventina, però se voi vi collegate alla nostra pagina Facebook, basta mettere nella stringa Gattile Ediga, Ediga come ente difesa gatti, troverete appunto nel posto fissato in alto tutti i punti vendita dove appunto hanno il calendario, dove si può acquistare il calendario. Il costo? Costa solamente 5 euro e praticamente è l'unica fonte di sostentamento per raccogliere un po' di soldini, per dar da mangiare e curare i nostri gatti, dato che in tempi di Covid ieri avete visto appunto il nostro Presidente del Consiglio che ci ha praticamente, giustamente dico io, dato tante limitazioni. Quest'anno noi non possiamo fare null'altro per autofinanziarci, abbiamo solo il calendario in vendita che comunque è veramente un pezzo strabiliante e sicuramente da collezione, quindi compratelo. Vogliamo ricordare quanti gatti ospitate e quanti gatti sono disponibili a essere adottati? Sì, noi abbiamo, ospitiamo al momento circa 210 gatti e comunque per, come dire, con nostra grande soddisfazione abbiamo pochissimi gatti adottabili, a parte che comunque non è stagione di nascite, diciamo noi per fortuna e quindi per ora le cucciolate non ce ne stanno, però abbiamo proprio due o tre gatti da adottare perché quest'anno abbiamo fatto le cose alla grande, abbiamo fatto adottare circa un centinaio di gatti. 14 foto. Sì, 14 foto, quindi 14 storie. Cominciamo appunto con quella di copertina dove c'è il nostro Abbondio. Abbondio è un gatto che è stato abbandonato qua con un trasportino un anno e mezzo fa, infatti Abbondio è un'assonanza di abbandono, abbondono, abbondio. Lui è stato abbandonato qua con il suo trasportino e una ciotolina d'acqua. Adesso è diventato il nostro front cat perché praticamente lui accoglie tutte le persone che stanno, che vengono a trovarci in rifugio. Da questo abbiamo poi la seconda di copertina dove abbiamo appunto le nostre, tutto quello che si può fare per aiutarci, i nostri indirizzi, i nostri numeri di telefono con un altro gatto appunto fotografato e poi ogni mese chiaramente cambia, cambia il gatto, per esempio. Non lo svegliamo, non lo svegliamo tutto, non lo svegliamo tutto, però diamo il contatto della vostra pagina Facebook anche per rendere più agevole la possibilità per acquistare questo tipo di calendario. Sensato, sensato. Gattile Ediga, Gattile Ediga nella stringa o anche su Google. L'importante è mettere Gattile Ediga e sicuramente troverete la nostra pagina. È tutto, grazie per averci seguito. Ancora una buona domenica. Grazie per averci seguito.